Se io dicessi Quiddies a uno di voi, cosa mi direbbe? Scuola, collaborazione, divertimento. Sintesi? Sì, perché... Anche se non si studia quei papponi là, si riassumono gli argomenti in... In poche righe, con immagini e video. Esatto. Se dovessi dire te a Quiddies, che esperienza ti ha dato? Ma personalmente, però... Allora, io mi sono divertito molto perché abbiamo fatto video o lavori comunque interattivi con la scuola e abbiamo fatto un po' di lezioni e devo dire che mi sono divertito tanto. La ripeteresti o faresti delle lezioni, tipo dei video tu da solo a casa per studiare? Cioè, cosa prendi da questa esperienza a livello di singolo? No, cioè, lo farei di nuovo perché comunque ti fa imparare a magari riassumere delle cose in video. Può essere un metodo di studio? Sì, potrebbe essere un metodo di studio. Te cosa ne pensi? A me Quiddies mi è piaciuto tantissimo. E questa esperienza, se mi venisse riposta, proposta, accetterei subito di rifarla perché mi ha aiutato a lavorare con gli altri e approfondire argomenti che comunque avevamo già studiato. Quindi con Quiddies nessuno è timido. Perfetto. Grazie. 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 Grazie.